La Samba vola in finale play-off battendo il Tolentino a domicilio grazie ad una rete all'inizio ripresa di Lisi e ora affronterà il Trastevere. Pubblico delle grandi occasioni al Della Vittoria, dove sono presenti più di 700 tifosi provenienti dalla Riviera, nel Tolentino sono indisponibili Strano e Severini, mentre al centro dell'attacco è con l'ex Padovani. Samba col solito 4-3-1-2, con Lisi in appoggio a Cardella e Falle, l'unica variazione è Buono, che gioca come mediano-basso, mentre Angiulli torna nel suo vecchio ruolo di mezzala sinistra, con Zanazzi a destra. L'inizio è favorevole per i Kremisi, che al quarto creano il primo pericolo, con Sonne respinge una pala dall'area rosso-blu, Capezzani va al tiro di prima intenzione dal limite destro, teso, sul quale il Nofrock si produce in una respinta in tuffo. Al settimo ancora Tolentino crea il grattacapio alla difesa rosso-blu, con lanci lunghi che pescono i calciatori liberi sulle fasce. Padovani scatta sulla destra, supera in velocità con Sonne, cross verso Capezzani, che calce le prime intenzioni, ma la mira questa volta è sballata. Dopo un avvio poco convincente, la Samba sembra aver preso il comando del gioco, almeno a livello di possesso palla, a centrocampo, pur senza riuscire ancora a tirare. Il Tolentino cerca invece della ripartenza veloce come al ventunesimo, quando Salvatelli arriva al limite, ma la sua conclusione è debole e Nofrock controlla. Prima il duplice fischio si vede Fall, che colpisce di testa, ma la conclusione è centrale e Pucò separa. Nella ripresa, dopo soli quattro giri di lancetti, i rosso-blu colpiscono. Fall serve Cardella, appoggia Zanazzi, che mette in mezzo, con Disi, che dal limite dell'area piccola appoggia in rete, 0-1. Il numero 24 percorre tutto il campo per andare a risultare sotto il settore occupato dai tifosi rosso-blu. Il Tolentino reagisce al sesto Cipro al giovanissimo Mengani, ma la conclusione è deviata da un difensore, sfiora solo il palo. Al nono lo stesso Mengani commette Fall su Lorenzoni, ne nasce un parapiglia da cui ne fanno le spese Mosconi e Visi, espulsi. Il Tolentino non demorde, si arriva al trentunesimo, quando una punizione dal limite di Miccoli trova a Nofrock la parata prodigiosa, col portiere che toglie la palla dall'incrocio dei pali. Al trentasettesimo, Tolentino in dieci per l'espulsione combinata a Nonni e Reo di aver scalciato Angiuli. Poi, al quarantunesimo, Nofrock abbassa ancora una volta la sara cinesca, balzando come un gatto, nel disinnescare una perfida conclusione del neo entrato Conti. L'ultima emozione la regala l'ex di Domenico Antonio, che impegna Bucos e due volte, poi può scattare la festa per la Samba. e per i suoi incombiabili tifosi cro hanno fatto mancare il sostegno per tutto l'arco del match. Domenica, ultima tappa, con la sfida al Trastevere per chiudere al meglio la stagione. Il miracolo era arrivare fino a qua, una banda di ragazzi, che mancano due giocatori fondamentali oggi all'ultimo minuto. Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, penso una sconvitta immeritatissima. Non vedo perché a San Bertese esulta contro una banda di ragazzi, però va bene, questo è calcio, possono parlare tutti quanti, però onore e merito a loro. Noi più di questo non possiamo andare. Abbiamo combattuto da eroi, l'eroe è quello che fa le cose semplici, cerca di fare il massimo. Sono orgoglioso di aver condiviso con questi ragazzi il campo di battaglia, tra virgolette, perché per noi era un campo di battaglia ed era sempre una lotta contro gli avversari più forti di noi e possiamo dire che pochi ci hanno battuto. Questo di oggi è stato un altro step molto bello, ce lo siamo goduti e adesso c'è un ultimo step. Con i ragazzi parliamo da tanto tempo di arrivare fino alla fine e siamo arrivati fino all'ultima partita, ce la giocheremo, daremo tutto, ma sono dei ragazzi fantastici che ci hanno dato grande gioia poi andare sotto la curva, sotto quelle 700-800 persone. È stato qualcosa di veramente emozionante e bello. Grazie. 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 Grazie.